Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione al tumore al seno, un'occasione che le comune di Vallefoglia omaggia con Intrecci Rosa, spettacolo che misce la narrazione e danza portando l'esperienza personale di lotta al cancro della scrittrice Von Pagliari in una rappresentazione emozionale che si trarà venerdì 25 ottobre al Teatro Santi di Bottega. Uno spettacolo ingresso gratuito ma con possibilità di offerta libera da devolvere all'Associazione Nazionale Tumori. Sono due mondi che si incontrano, la danza e la scrittura, soprattutto sono due passioni. Ci siamo ritrovate in questo nostro mondo per poter parlare in maniera molto diversa di cancro al seno. Lo faremo in un modo tutto nostro, con il linguaggio del corpo e anche delle parole. Sarà uno spettacolo ma io preferisco e lo ripeto sarà un'esperienza emozionale dove ogni donna si riconoscerà nelle varie fasi che racconteremo e ogni persona potrà godere della bellezza del movimento del corpo a raccontare tutte le varie emozioni. A ottobre è come si sa il mese della prevenzione del tumore al seno. Il mese diciamo in cui tutto il mondo è appunto atto anche delle campagne di sensibilizzazione proprio per la prevenzione di questo tipo di tumore che ahimè ogni anno colpisce sempre più donne. Il comune di Vallefoglia ha accolto con molto entusiasmo la proposta di Yvonne Pagliari e di Lisa Vergoni. Hanno deciso di mettere insieme le loro arti per appunto raccontare l'esperienza sia della malattia ma soprattutto per generare in chi vi partecipa tante emozioni anche contrastanti ma soprattutto di speranza. Prevenire i fenomeni di ogni genere soprattutto quelli di tutela della salute è veramente fondamentale e straordinario quindi informare educare e poi insomma un taglio anche dal punto di vista delle donne della costruzione della città a misura di donne ed un nuovo protagonismo delle donne. Si potrà prenotare il biglietto al numero 347 51 48 48 4 e si potrà ritirare il biglietto presso il teatro Giovanni Santi il giovedì 24 dalle 18 alle 20 oppure il giorno dello spettacolo quindi 25 ottobre. Importante ricordare che l'offerta che le persone faranno per questo evento andrà totalmente devoluta ad Ant, Assistenza Nazionale Tumori del nostro territorio perché questa associazione sta facendo la differenza nel nostro territorio.